Non è facile per me vivere lontano dai miei figli e dalla mia terra. Però ho sempre cercato di essere felice e di adattarmi al modo di vivere in Italia. Sto aspettando i documenti necessari per far venire i miei figli in Italia, che dovrebbero arrivare a maggio. Anche se è una procedura lunga e costosa, ci spero molto e spero anche che riescano ad adattarsi alla vita in Italia. Grazie per la visione!